Benvenuti ad Oncologia Personalizzata. Oggi siamo con due ospiti, come al solito con il professor Luigi Cavanna, che è il direttore del Dipartimento di Oncometologia dell'ospedale di Piacenza, nonché presidente del CIPOMO, e con la dottoressa Daniela Piva, che è il direttore di radioterapia, per parlare insieme in questa puntata ancora una volta dell'importanza della multidisciplinarità nei percorsi diagnostici terapeutici. Professor Cavanna. Verissimo, per i malati di tumore, ma diciamo non solo, ma i malati di tumore hanno rappresentato un po' il modello di una nuova modalità organizzativa. Non è più il singolo medico, il singolo oncologo che gestisce completamente e da solo il malato. Ci sono tante figure professionali, per questo si parla di lavoro multiprofessionale, di gestione, di cura multidisciplinare di questi pazienti. Si è visto, e l'abbiamo già detto altre volte, che se un malato è preso in carico da più professionisti, che si confrontano, che ognuno di questi professionisti tira fuori il meglio del suo conoscente, per il paziente che ha di fronte, tutti assieme riescono ad aggiungere ad una sintesi che dà la cura migliore al paziente. Quindi ci sono tante figure che intervengono davvero nella cura del malato oncologico. Le principali, potremmo dire, ma le principali perché sono quelle più conosciute, sono sicuramente l'oncologo, il chirurgo e il radioterapista. Ecco, il radioterapista è quella figura che è molto coinvolta praticamente un po' per tutti i malati oncologici, perché il trattamento, poi ne parlerà la dottoressa Daniela Piva, il trattamento radiante svolge in alcuni pazienti un ruolo determinante. Spesso facciamo terapie combinate con le nostre cure chemioterapiche, comunque farmacologiche, non da ultimo anche con l'immunoterapia. Quindi il chirurgo è deputato, diciamo, ad asportare la malattia oncologica, a togliere storicamente il tumore mediante l'intervento chirurgico o a togliere anche le metastasi in alcuni organi come nel fegato. E noi come medici oncologici utilizziamo i farmaci, ma il radioterapista utilizza tecnologie sempre più avanzate con l'obiettivo, da un lato, o per eradicare la malattia o comunque per controllarle, con i trattamenti anche palliativi. Quindi la radioterapia ha un ruolo molto molto importante nella cura del malato oncologico. Quindi, dottoressa Piva, mi pare di capire che la radioterapia entra in tutti i percorsi diagnostico-terapeutico che riguardano i malati oncologici. Sì, la radioterapia entra in tutti i PDTA, i percorsi diagnostico-terapeutici aziendali. Quindi entra nel percorso della mammella come trattamento post-operatorio complementare o anche nella paziente con patologia mammaria metastatica per alleviare sintomi e quant'altro. Entra nel percorso dei tumori del capocollo, della sfera otorino, sia in trattamenti combinati con la chemioterapia senza l'intervento chirurgico, quindi chemio e radio in combinata, oppure entra nel post-operatorio. Per quanto riguarda la sfera ginecologica ha un'importanza sia nel post-operatorio che nell'esclusiva, diciamo, insieme alla chemio. Nel tumore del colon retto molto spesso viene utilizzata prima dell'intervento chirurgico per avviare il paziente a un intervento chirurgico meno devastante. Nei tumori cerebrali primitivi, praticamente in quasi tutti i pazienti neoplastici incontrano prima o poi nel loro percorso la radioterapia. Dottoressa Piva, noi ci eravamo incontrati tre anni fa, l'era stata nostra ospite sempre a Telecolor. Da allora ne sono cambiate tante di cose in questo reparto, per esempio vi siete dotati di strumenti all'avanguardia. Sì, negli ultimi anni è stato acquisito un nuovo acceleratore lineare, che è un acceleratore lineare di ultima generazione. Questo consente di essere ancora più precisi nella localizzazione, diciamo, del bersaglio da trattare, perché essenzialmente lo scopo del radioterapista qual è? Ha un bersaglio, un focolaio dove c'è la malattia che vuole trattare, lo deve trattare con una dose il più radicale e più elevata possibile, risparmiando tutto quello che c'è intorno. Quindi questo comporta la necessità di una precisione esagerata. Questo acceleratore ci consente questa precisione e in più, essendo dotato di... Praticamente le radiazioni possono essere messe senza filtri particolari, per cui con una velocità di erogazione molto molto elevata, questo consente di accorciare i tempi di esposizione del paziente e quindi ridurre l'eventuale rischio di movimento sia interno che esterno del paziente. Perché è un bersaglio che deve colpire risparmiando gli aggrini. Perché è un bersaglio che deve colpire il bersaglio e deve risparmiare quello che c'è intorno. Quindi deve colpire il bersaglio con precisione, con una caduta improvvisa della dose. Però se io voglio colpire un pisello a un metro e incomincio a tremare, non è detto che la mia pallottola vada a colpire il bersaglio. Per cui devo avere una precisione e anche che il bersaglio e io siamo fermi tutte e due. Certo, e minore il tempo di esposizione. Minore il tempo di esposizione, più veloce è l'erogazione del trattamento e meno probabile è lo spostamento del bersaglio. Comunque queste cose noi le teniamo monitorate e controllate. Non è che ci affidiamo alla speranza. Cioè questo apparecchio ci consente anche di mantenere monitorato non solo prima dell'erogazione della radiazione, ma anche durante l'erogazione della radiazione, il nostro bersaglio. Nel modo che se il nostro bersaglio esce dalla mia traiettoria, diciamo, la macchina in automatico può smettere di erogare le radiazioni. Dottoressa Piva, c'è la possibilità di usare la radioterapia, mi immagino come un laser che va a colpire proprio una metastasi e è la nienta. Sì, in questo caso parliamo di radiochirurgia oppure di radioterapia stereotassica. La radiochirurgia a volte viene, diciamo, eseguita in un'unica seduta, con dosi molto, molto elevate e soprattutto la impieghiamo in localizzazioni metastatiche a livello cerebrale, lesioni piccole che quindi ci consentono di distruggere completamente la lesione come se fosse asportata dal chirurgo. Anche a livello polmonare, in localizzazioni secondarie a livello polmonare, o in tumori primitivi polmonari molto piccoli in pazienti non candidati all'intervento chirurgico, eseguiamo dei trattamenti radioterapici esclusivi in sedute che possono andare dalle 1 alle 5, a seconda se la lesione è più periferica possiamo aumentare di più il dosaggio e quindi in tre sedute riusciamo a risolvere il problema. Se invece la lesione è più centrale, quindi più a rischio di danneggiare i grossi vasi e quant'altro, utilizziamo dei dosaggi più blandi e ci servono almeno 5 sedute di trattamento. Però anche in questi casi, poi documentati dai controlli radiologici successivi, riusciamo a estirpare, se così si può dire, comunque a risolvere completamente il problema metastatico. Oltre a strumenti all'avanguardia avete anche tecniche nuove come la Total Body Radiation. Ce ne parla? Sì, allora questa è una tecnica che abbiamo implementato l'anno scorso. è la radioterapia di tutto il corpo che serve per l'induzione del trapianto di midollo. Cioè una persona affetta da leucemia oppure da forme di mieloma o che necessitano di trapianto di midollo solitamente vengono portati all'induzione con chemioterapia. Un'alternativa può essere l'irradiazione di tutto il corpo che va a distruggere, la radioterapia su tutto il corpo, va a distruggere tutte le cellule diciamo ematologiche, ematiche del paziente. Noi abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo trattato 15 pazienti, abbiamo trattato pazienti dell'ematologia di Piacenza e anche dell'ematologia di Parma perché questa tecnica non è una tecnica diciamo implementata in tutti i centri. È una cosa molto particolare non solo dal punto di vista della preparazione del trattamento perché noi abbiamo scelto di farla col paziente coricato su un lettino per terra in modo da disagiare il meno possibile il paziente che durante questi trattamenti possono stare male, svenire, quindi se sono sdraiati sono già più agevolati con il trattamento. Purtroppo è un trattamento complicato da preparare come piano di cura perché sono tanti archetti che vanno a coprire tutta la lunghezza del paziente ma è anche complicato per gli operatori che sono lì, per lo stress psicologico a cui devono andare incontro. Il paziente viene prima preparato con un attacco di centratura, poi viene preparato il piano di cura e preparate le fusioni dei piombi per schermare i polmoni e quando il paziente inizia il trattamento fa sei sedute, una al mattino e una al pomeriggio per tre giorni consecutivi. Queste sedute sono molto lunghe, infatti ci impegnano almeno due o tre ore a seduta al mattino e due o tre ore al pomeriggio perché abbiamo tante manovre, tanti accorgimenti, ci sono tante cose da mettere a posto e c'è anche un coinvolgimento molto personale degli operatori anche perché abbiamo a che fare con ragazzi giovani molto spesso e non tutti gli operatori vogliono dare la disponibilità, ecco, anche proprio per un impatto emotivo. Certo, questa cosa che dici mi ricorda il concetto della multidisciplinarità che riguarda quindi diversi reparti in cui il paziente oncologico magari deve essere curato, ma anche diverse figure, vengono create proprio delle equip che prevedono la presenza di medici ma anche di infermieri, l'abbiamo visto in un'altra puntata, e di tecnici. Nel vostro reparto in radioterapia che tipo di tecnici lavorano? Noi e da noi lavorano tecnici di radiologia che sono però specializzati in radioterapia perché diciamo l'approccio che il tecnico ha col paziente in radioterapia è diverso da quello che il tecnico può avere in radiologia. In una diagnostica arriva il paziente, fa l'esame, tac, non dico che il tecnico non si dia al paziente, però è un approccio veloce, ti chiedo i dati, ti sistemo le cose, faccio il mio lavoro fatto bene e poi ti saluto. Da noi invece il rapporto diventa più intimo, se così si può definire, nel senso che il tecnico è quello che accompagna il paziente nel percorso, che lo vede tutti i giorni, che lo ascolta per primo sui disagi, sui problemi, anche sui fastidi, è comunque quello che ti posiziona, che sta lì, che deve essere preciso e che si fa coinvolgere emotivamente. Altre figure ancora sono i fisici, avete dei fisici? Noi abbiamo i fisici che sono quelli che il paziente praticamente non vede, però sono quelli che rendono, io li definirei così, sono quelli che rendono reale quello che è nella testa del medico radioterapista. Cioè il medico radioterapista ha un'idea, una fantasia a volte, e questi con tutte le loro manovre, isodosi, gira di qui, gira di là, archi, mica archi, rendono in realtà quello che è nella nostra testa, che noi ce l'abbiamo solo come fantasia, loro ce la fanno vedere e ce la rendono reale e poi il paziente se ne giova, perché il piano di cura viene elaborato non dal medico, viene elaborato dal fisico, cioè il medico gli dice, io voglio quella dose in quel punto, voglio risparmiare qui perché c'è, io ho il rene, c'è l'intestino, c'è il retto, voglio risparmiare queste cose, però io lo posso solo desiderare, quell'altro me lo rende possibile e sto vedendo che nei giorni, cioè con gli anni a venire, con questa tecnologia che avanza di corsa, il lavoro del fisico è sempre sempre più complicato e hanno delle rese veramente meravigliose, ecco, riescono a fare delle cose fantastiche ad uso del paziente, logicamente. Ecco, un lavoro altrettanto fondamentale e importante, professora Cavanna, c'è anche in altri reparti, penso alla diagnosi, penso per esempio alla biologia molecolare, ci può dire qualcosa su questo, che poi sarà anche l'argomento di una prossima puntata? Certo, come diceva la dottoressa Piva, che ha parlato per quanto riguarda la dipertinenza, cioè la radioterapia, la cura, la presa in carico del vanto oncologico, lo ripetiamo sempre, ma perché è giusto ripeterlo, è sempre più multiprofessionale e la partenza, l'inizio di tutto, deve basarsi su una diagnosi la più accurata possibile. Ma fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, la diagnosi era di pertinenza, diciamo, dell'istologia, si faceva la biopsia e veniva esaminata dallo specialista che è il patologo, il medico patologo, il quale dava poi un risponso con la gradazione, in base alle cellule, in base al tessuto che veniva esaminato, c'è tutta una modalità per dare delle risposte, in base alle caratteristiche biologiche delle cellule tumorali. Ma da qualche anno si è assistito davvero ad una rivoluzione delle conoscenze, si è capito che magari quella cellula, che può essere molto simile ad un'altra dal punto di vista morfologico, cioè di quanto si vede al microscopio, può essere profondamente diversa dal punto di vista della caratterizzazione biomolecolare. E quindi oggi si parla di medicina di precisione, di medicina personalizzata, perché si cerca quella alterazione genetica o di recettore, che lo rappresento sempre per farmi capire dal pubblico, il recettore può essere visto come un'antenna sulla superficie della cellula, come l'antenna della televisione sono sulle case, e quel recettore magari funge proprio da antenna su cui noi indirizziamo le nostre medicine, i nostri farmaci. Ma è molto importante il lavoro di chi mi dà questa risposta, quindi del patologo, del biologo molecolare, che mi dicono sì, l'antenna c'è, puoi usare questa medicina, o l'antenna non c'è e non la puoi usare. Quindi capiamo quanto tutto è molto, molto concatenato. La diagnosi è estremamente precisa, oggi è sempre più sofisticata, quindi la scelta del farmaco diretto su quel bersaglio l'intervento del chirurgo quando il malato può essere operato, a volte non è operabile all'inizio, ma va fatta una cura prima. Prendiamo ad esempio il tumore del retto, in cui intervengono proprio i tre, i quattro, diciamo, specialisti dedicati, i cinque, interviene allora chi? L'endoscopista che fa l'endoscopia, che può essere il gastroenterologo, poi il patologo e il biologo molecolare che fa la diagnosi precisa, il radioterapista e l'oncologo che fanno la terapia preoperatoria e poi il chirurgo che opera alla fine. E la terapia cosiddetta prima dell'intervento ottiene due importanti risultati, rendere più piccolo il tumore, quindi più operabile, operabile in modo più radicale, ed evitare, e questo è l'effetto soprattutto delle radiazioni, che sono locali, e i farmaci evitano che le cellule scappino, vadano, diano metarsi a distanza. Quindi abbiamo l'endoscopista, il patologo e il biologo molecolare, il radioterapista, l'oncologo e il chirurgo, ma questi poi ovviamente supportati dal ruolo fondamentale dei tecnici da un lato, che sono i tecnici tanto in artemi patologico quanto in radioterapia, dagli infermieri e dai meci della riabilitazione, quindi è veramente un percorso multiprofessionale, ma lavorando in questo modo è lì che si ottengono i risultati migliori in termini di guarigioni e qualità di vita. Tra l'altro in questo percorso c'è molta attenzione anche al benessere, se può andare bene questo termine, del paziente e dei suoi familiari. C'è anche uno psiconcologo e poi gli infermieri sono preparati a dare una sostanza anche di questo tipo al malato? Assolutamente, perché noi mentre parliamo e diamo queste informazioni può essere relativamente semplice mentre se ne parla, però diventa molto più complesso quando una persona è malata che deve incontrare veramente, essere preso in carico in modo, possiamo dire, sequenziale e coerente, che tutti questi professionisti si devono parlare e devono essere un po' come dire, mi viene in mente quasi un'orchestra, con uno deve fare un ruolo molto importante per quanto di competenza e torno sempre a dire ma il ruolo dell'infermiere diventa sempre più importante perché l'infermiere poi è quello che somministra il farmaco al paziente, è quello che ascolta di più il paziente che mentre somministra, mentre la flebo fa scendere giù la chemioterapia, parla, magari dice effetti collaterali che magari non aveva detto col medico e l'infermiere lo riferisce, quindi se c'è tutto questo lavoro di squadra è lì che otteniamo poi le risposte migliori. Il discorso dello psico-oncologo è fondamentale è fondamentale non solo per il paziente, certo che nasce per il paziente e per i familiari perché spesso il tumore cambia la vita non solo al malato ma la cambia tutta la famiglia, tutta l'intorazione familiare, al caregiver, comunque a tutto perché la ricaduta poi pratica è davvero notevole di questa malattia, è pesantissima per tutto, per il malato e per chi sta attorno al malato, quindi lo psico-oncologo è per il paziente per i familiari ma anche per il personale, per noi, per gli infermieri. L'ottoressa Pivo prima ha detto quando parlava della irradiazione corporea totale per la preparazione del trapianto, dice che alcune persone, alcuni tecnici, quindi professionisti, hanno difficoltà psicologiche magari nell'approcciare, perché sono pazienti giovani, a volte molto giovani, sono ragazze, quindi questi trattamenti così, in un certo senso, pesanti, passati di questo termine, impattano anche sul personale, ma non solo, poi dopo l'oncologia, certo che oggi riesce a guarire tanto di più, riesce a prolungare la vita, però, attenzione, l'oncologia si confronta oggi ancora con tanti successi, noi siamo felici per chi sta meglio, ma siamo molto impegnati a cercare di cambiare la prognose le persone che invece hanno un'evoluzione meno favorevole e queste ricadute di, potremmo dire, di insuccessi della cura, pesano nei medici, pesano per gli infermieri, pesano per i tecnici, quindi il psico-oncologo è molto importante anche per noi. Certo. Per concludere, un altro aspetto importante quando si può, e che lei spesso ha sostenuto, è quello di fare le cure quando si può, ripeto, a casa, più possibile, proprio per il benessere del paziente perché possa stare nella sua casa e con i suoi familiari vicini. È vero, noi ci siamo impegnati da anni di portare le cure sul territorio, le cure negli ospedali vicino a casa del paziente e quando si può anche a casa del paziente. Non dimentichiamo che oggi molte terapie oncologiche sono terapie per bocca, sono terapie di somministrazione in un certo senso facile, ma sono ancora farmaci più potenti se vogliamo di prima, quindi da un lato c'è la facilità della somministrazione delle cure, dall'altro però c'è l'obbligo che i medici e gli infermieri siano capaci di gestire gli effetti collaterali. Guardi, proprio l'altro giorno leggevo, mi ha fatto piacere leggerlo, autori statunitensi che parlano del tossicità del tempo, il termine di tossicità come dire il peso del tempo che viene rubato ai pazienti oncologici in viaggi, cercando il parcheggio e poi raggiungerli dai hospital e poi aspettare a lungo i dai hospital e noi a questa tematica abbiamo cercato di dare una risposta ma lo dico con molta umiltà già da anni per far risparmiare tempo ai malati oncologici e ai loro familiari. Certo. A questo punto io la ringrazio Professor Cavanna. No, grazie a voi, grazie a lei. Ringrazio anche la dottoressa Piva come accennato nella prossima puntata avremo anche ospiti dal Dipartimento di Biologia Molecolare e proprio per approfondire questo tema dal Dipartimento di Anatomia. Certo, il Dipartimento di Anatomia Patologica e Biologia Molecolare che sono lo stesso istituto sono figure professionali diverse però lavorano ovviamente assieme e la Biologia Molecolare è afferente nel nostro paese ma anche in altri paesi dell'Occidente agli istituti di Anatomia Patologica. Diciamo che sono loro che loro come la dottoressa Piva i fisici mettono in pratica ciò che il medico dice i biologi molecolari e i patologi sono quelli che ci danno la diagnosi sono quelle figure professionali che ci danno quando si scrivono noi ci muoviamo proprio in quella direzione e quindi sono davvero fondamentali ma tutte le figure sono fondamentali però ci sono alcune più fondamentali potrei dire che questi sono più fondamentali. Diciamo che danno un bel contributo al discorso della medicina in questo caso dell'oncologia personalizzata perché le cure sono proprio mirate grazie a questi esami sicuramente grazie di nuovo e grazie anche a voi telespettatori quindi continuate a seguire Oncologia Personalizzata buon proseguimento grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti